ci ritroviamo in compagnia di matteo gonzacca ciao e benvenuto ciao nico buongiorno a tutti grazie per essere qui con noi vogliamo approfondire la tua storia il tuo percorso professionale ti conosciamo come autore come autore multiplatino produttore musicista compositore ma partirei dal prima di parlare poi della tua storia partirei dal presente da questa colonna sonora da te firmata il divino codino raccontaci parliamo raccontando appunto come è nata questa esperienza e cosa rappresentato per te questo è un terzo lavoro che io faccio nel mondo del cinema un terzo lavoro importante ed è nello specifico anche un secondo una seconda collaborazione con la regista letizia lamartire che ha firmato di vincodino e con cui avevo avevo cominciato una prima collaborazione qualche anno fa in occasione di un film che si intitolava saremo giovani e bellissimi con barbara bobulova è stata una collaborazione molto interessante un film totalmente musicale che ci ha portato poi a rincontrarci nell'occasione di di vincodino ecco quindi questo è un terzo lavoro importante in mezzo a questi due c'è stato un secondo lavoro che è stato trash la leggenda della piramide magica tutto un lavoro d'animazione molto complesso che ho fatto l'anno scorso che è uscito al festival del cinema di roma e adesso siamo qui con con questo film con un progetto molto interessante poi su un personaggio che ha colpito generazioni di calciofili come me quindi per me è stato non solo un'esperienza da un punto di vista professionale interessante ma anche da un punto di vista emotivo ecco coinvolgente cosa ti affascina della storia di di roberto baggio e in che modo hai cercato di metterla in musica allora guarda della storia di baggio quello che mi affascina di più della sua della sua figura proprio quella che è stato un giocatore se vogliamo un po' trasversale perché è stato un solista ma è stato anche un solitario perché nonostante le sue vittorie è stato l'ultimo pallone d'oro italiano che noi abbiamo avuto prima di cannavaro prima di cannavaro giusto scusami 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 e qui viene meno la mia la mia fama di calciofilo certamente no non volevo smontare la fama di calciofilo ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro poi ho stato tante maglie anche sicuramente più di più è stato veramente un girobago del calcio e da un certo punto di vista mi piace anche definire una sorta di dissidente in qualche modo perché è stato un personaggio che ha vissuto non solo dei conflitti interiori e li vediamo nella storia del film ma dei conflitti anche all'esterno in qualche modo perché talvolta certe persone non sono comprese e per me in qualche modo baggio lo è stato un po incompreso ma è il destino anche di certe eccellenze essere così il destino dei numeri uno dei numeri uno vero veri e quindi è una storia molto interessante molto appassionante quella sua che ha come dire un retroscenario manzesco no e quindi è stato bello partecipare a questa cosa e dare un contributo musicale al progetto e ha cercato di come dire di far venire in luce questa parte sua molto molto spirituale perché lui si è appoggiato alla fede anche per cercare di trovare un supporto ha avuto tanta infortunia che è stato anche un po' sfortunato è stata anche un percorso una carriera molto travagliata da questo punto di vista e lui è riuscito ad affrontare anche grazie appunto al al buddismo ha trovato nel buddismo in un credo una una forza di supporto ecco e quindi è stato molto interessante tirare fuori quell'aspetto c'è questa questa come dire questa dimensione spirituale che attraversa la musica a tratti ovviamente perché chiaramente la musica è sempre funzionale ad una ad una drammaturgia che viene costruita quindi c'è la libertà del compositore di come dire di scrivere dei colori di dare dei toni ma chiaramente devono essere anche funzionali ad una tecnica e poi c'è anche quella componente che che a tratti affiora di una vita semplice che proviene dalla provincia no da cui viene baggio che che una vita semplice e anche scandita da delle regole molto molto rigide lo vediamo nel rapporto col padre e questa che quasi religiosa e che si contrappone alla alla spiritualità che vi cerca nella religione buddista in qualche modo no c'è quella regione anche cattolica rurale del padre molto arroccata su se stessa quindi mi è piaciuto questo contrasto anche che genera un iniziale incommunicabilità che poi però alla fine si risolve il bello di parlare dei film autobiografici è che non spoileriamo nulla perché la storia di maggio non è la prima volta che ti metti alla prova con il cinema come come hai raccontato all'inizio quindi ti chiedo cosa ti appascina di preciso del comporre colonne sonore guarda comporre colonne sonore è sempre stata una mia grande passione oltre a essere un cinefilo scusami un calciofilo posso essere anche un cinefilo vabbè a parte gli scherzi sono sempre stato molto appassionato di cinema sonore è un mondo interessantissimo perché per me da modo ad un musicista come me che ha avuto anche dei trascorsi come come studi anche ho approfondito la scrittura musicale l'orchestrazione l'arrangiamento e dà la possibilità di di mettersi alla prova su più aspetti su più tecniche compositive su su vari generi il musicista che scrive per il cinema deve avere una cultura profonda una musicale profonda e questo è un grande stimolo anche per me rappresenta ogni ogni film rappresenta l'occasione per approfondire e per cercare anche delle soluzioni non facili e quindi per studiare a me piace studiare piace approfondire la musica io credo che un musicista debba sempre studiare però ad un certo punto ci vogliono anche quelli come dire le occasioni che ti danno questa opportunità e quindi film e rappresenta per me questo modo per approfondire e per viaggiare all'interno dei dei mondi musicali cosa che nella pop music se vogliamo un pochino più stereotipante ok e c'è meno questa possibilità assolutamente trovo assolutamente ragione quello che dici e anticipato un po la mia prossima domanda perché tu hai lavorato davvero con con tantissimi artisti italiani pop e non solo nomi importantissimi della mazzotti a emma mengoni morandi gazze golazzi da tangio tantissimi veramente tanti quindi a parte questa tua attitudine nei confronti della musica moderna hai come raccontato adesso sviluppato sicuramente anche una conoscenza una padronanza di repertori classici diciamo di studi classici per questo ti chiedo quanto conta secondo te la preparazione e lo studio soprattutto come messaggio da dare ragazzi a chi si approccia oggi a questo mondo ma io credo in assoluto che la cultura e quindi la conoscenza eh conti sempre ok perché dà la possibilità di eh rendere più ampia la propria sensibilità di renderla più raffinata di affinare la propria sensibilità questo serve per comprendere le cose quindi a studiare eh oltre all'acquisire delle nozioni in merito ad una determinata materia serve proprio per sviluppare la propria sensibilità quindi la capacità anche di lettura della realtà delle cose della musica e quindi io credo che sia molto importante poi in questo periodo storico io capisco che la tecnologia avvicinato e ha reso ehm alla portata di tutti eh certe eh la comprensione di certe tecniche ok noi vediamo sentiamo youtube e con un tutorial impariamo a usare una telecamera io che sono di una di un di più di una generazione precedente per me per imparare a utilizzare una telecamera dovevo andare ad un corso magari partire dalla città in cui vivevo che era padova andare a roma e durante il tragitto magari avrei conosciuto delle persone e arrivando a roma magari sei arrivato in ritardo e non avrei mai partecipato a quel corso quindi tu hai avuto di modo di lavorare anche con diversi talenti emergenti che hai collaborato con con i talent show con x factor con the voice quindi ti chiedo qual è il tuo pensiero su questo tipo di format se credi che oggi l'affermazione di un ragazzo possa venire anche attraverso altri mondi come ad esempio il web beh sì allora la stagione dei talent ha prodotto tanti artisti lo abbiamo visto credo che un pochino quell'esperienza si sia usurata e ehm e infatti eh come dire le ultime generazioni sono provengono in maniera spontanea da quello che il web eh ha dato la possibilità di fare eh ormai 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 io credo che la una volta il rock si faceva on the road no dalla strada si veniva ormai la strada di adesso è il web è la rete eh quindi eh è la realtà ma insomma ehm siamo ehm anacronistici nel nel parlare di questo già io credo assolutamente è ovvio ecco ok per concludere alla luce di quello che ci siamo detti ti chiedo se c'è una particolare lezione un insegnamento a tutti che senti di aver preso dalla musica fino ad oggi guarda eh io ti do il mio insegnamento personale personale perché 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 non è per tutti così ehm posso dire posso dirlo serenamente alla luce di tanti anni in cui faccio questo mestiere e alla luce di tante relazioni che ho avuto quindi parlo solo in termini eh strettamente personali io credo che la musica per me la musica è stata una forma di arricchimento proprio del mio spirito eh la musica è la ricerca di una bellezza di una bellezza che non ha una sua forma visibile ma impalpabile è una forma esperienziale totalmente impalpabile che si consuma istantaneamente la musica nasce e muore nello stesso momento no perché si si sviluppa nel tempo no eh così come nasce e muore e e credo che che sia una forma di arricchimento spirituale guarda una volta un amico che faceva che si appassionato di di tutto quel mondo olistico no che va da yoga le varie discipline orientali così che un po' mi affascinavano ero quantomeno incuriosito gli chiesi se avesse potuto darmi delle lezioni di yoga di meditazione scusami di meditazione nello specifico e in questo lavoro un po' ce ne vuole eh persona migliore esatto esatto e lui mi disse ma Matteo ma tu la tua forma di meditazione io vedo che già ce l'hai quando ti metti al pianoforte a comporre quella è già una forma di meditazione io credo che di trascendenza assolutamente io credo che ti basti quella e allora lì sì avevo capito ero d'accordo perché in effetti almeno per me ripeto per per come la concepisco io la musga eh e per l'amore e la l'empatia che ho eh rappresenta una forma di di distacco anche se vogliamo sano ecco da quella realtà talvolta inquinata della vita ecco perfetto io ringrazio Matteo Buzanca per essere stato con noi ti auguro ti auguro davvero tanta fortuna per i prossimi progetti noi siamo qui quando vuoi e alla prossima grazie a te Nico e a tutti quelli che ci hanno ascoltato un saluto grazie a tutti grazie a tutti